Di Mestieri si occupa anche l'Accademia della Montagna del Trentino che quest'anno ha voluto essere presente con una propria proposta, il Presidente Gidio Menapace che conosce da molti anni il parco da quando era Presidente del Festival. Prego, che cosa proponete? Grazie, grazie a tutti. Per l'Accademia è un orgoglio far parte del Parco dei Mestieri. Noi abbiamo avuto un compito non facile, abbiamo tentato con dei quaderni della montagna di parlare della Grande Guerra nelle scuole primarie. In una maniera riteniamo semplice, era difficile parlare ai ragazzini delle scuole elementari, delle primarie della Grande Guerra, lo abbiamo fatto con dei quaderni in collaborazione con le guide alpine e gli accompagnatori di territorio, portiamo i ragazzi del Trentino nelle vicinanze dove sul fronte della guerra, nei forti, nelle trincee. È un lavoro che è anche simpatico perché porta fuori dalla scuola i ragazzini e li porta nelle montagne vicine a casa ma soprattutto riesce a parlargli di questa storia così disastrosa che cento anni fa ha coinvolto tutte le nostre montagne. L'Accademia Montagna fa questo e i ragazzini quest'anno facciamo gli ultimi due quaderni, il Trentino è tutto coperto, i ragazzini hanno risposto in maniera incredibile, non pensavamo, era difficile il compito però e lo presentiamo qua al Parco dei Mestieri che tutti i ragazzini si rivedono nei quaderni che hanno già usato. Grazie a tutti.